in attesa che entri un pochettino di più questo vento da sud che come al solito a fino a quando il tempo è buono fa fatica entrare e stiamo tutti pronti per per le regate abbiamo visto il fly nikita abbiamo visto la barca con col sindaco di genova e il comitato si sta riposizionando ora vediamo cosa succede mancano 3 minuti e 40 alla partenza in mente qualcuno sta cercando di partire verso la boe in modo da portare un po più lanciato mentre qua mi sembra che si ammucchino un altro paio di barche che invece tenderanno mancano 3 minuti adesso che tenderanno a rimanere qui in zona più verso la linea di partenza pochissimi secondi ci sarà ammai nata la bandiera di avviso e quindi sarà partita eccoci partiti una bella partenza abbastanza equilibrata le barche sotto vento sembrano che leggermente più lente di questo qui sopravento per ora farà tanto anche la lunghezza delle barche a